Ciao gente, benvenuti a una nuova diretta per principianti, alla quarta diretta per principianti. Come state? Come state? Ditemi, si sente bene? Si sente bene? Si sente bene? Questo è un nuovo microfono e quindi non so se si sente bene. Scrivete se si sente bene, se il volume va bene, se il volume è buono. E un benvenuto a tutti, un benvenuto a Nelio, a Maria, a Pablo Blond, a Bruratos. La prima volta, la prima volta in diretta, quindi un saluto a tutti. Vigilius, Vigilius, Gibram, forse si pronuncia, ok. José, un abrazo a todos, un abbraccio, un abbraccio anche a te, un abbraccio a tutti. La qualità oggi è un pochino peggio. It's a bit worse, è un poco peor. La qualità del video è un po' peggio perché per problemi tecnici devo usare la webcam. Di solito, normalmente, normalmente uso questa per... come camera, come camera per le dirette. Ma oggi non posso per problemi tecnici, quindi... quindi la... la qualità video è un po' peggio. La qualità audio spero meglio perché ho un nuovo microfono. Però non è... non... non credo sia un problema. Non credo sia un problema il video perché di solito facciamo così. Sì, quindi la mia faccia, la mia faccia è pic... molto piccola. Però... bene, quindi un saluto a tutti. Un altro capitolo della Famiglia Rossi. Sì, di nuovo la Famiglia Rossi. Oggi parliamo di mesi, mesi, date, numeri, stagioni, no? Le stagioni dell'anno e queste cose. Bene. Asat dice che si sente bene. José, come va la vita? La vita va bene, grazie, grazie. Come va la tua vita, José? Dimmi, come va? We are touring the Grand Canyon right now. We'll watch later. Ok, bene. Goditi il Grand Canyon. Il Grand Canyon è più interessante di questa diretta. Il Grand Canyon è più interessante della Famiglia Rossi, credo. Ciao da San Diego. Ciao dall'Italia. Ciao da Torino. Ciao anche a te. E non so leggere il tuo nome. Non so. Non so leggere il tuo nome. Argentina, Pablo, bene, bene, bene. Diego, ti sentiamo bene. Perfetto. Buonasera Danizza. Ciao anche a te. Bene. Quindi qualche giorno fa... Quindi qualche giorno fa, recentemente... Recentemente era il mio compleanno. E questo microfono... Questo microfono è il mio regalo di compleanno. My birthday present. Come si dice in spagnolo? Regalo. Regalo de cumpleaños. Il mio regalo di compleanno. Quindi... Il primo settembre. Quindi la vita va molto bene. E oggi... Oggi parliamo di giorni. Di giorni, di numeri, di mesi. Quindi sia oggi... Oggi è il... Oggi è il 10 settembre. Venerdì 10 settembre. Ore 9.35 in Italia. E il primo settembre era il mio compleanno. E di solito diciamo primo settembre, non 1 settembre, l'1 settembre. Non è impossibile dire l'1 settembre, ma di solito diciamo il primo settembre. Il primo settembre. Il primo ottobre. Il primo novembre. Ok? Quindi grazie per gli auguri. Regalo de cumpleaños. È uguale in italiano. Regalo di compleanno. Quindi sì. Bene. Ciao a tutti. E voi state bene? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene nei vostri paesi? Ah, quanti anni hai? Oscar. Oscar, ho 14 anni. Ho compiuto 14 anni. Non è vero. Non è vero. Facciamo così. Secondo te, Oscar, secondo voi, secondo voi, quindi a vostro avviso, secondo voi, quanti anni ho? Quanti anni ho secondo voi? Scrivetemi. Quanti anni ho secondo voi? Quanti anni... Come diciamo in italiano? Quanti anni dimostro? Quanti anni dimostro? Quindi... Ok, Diego dice 22. The Meikn dice 26, 24. Gibram, ho 27... Tu hai 27 anni o io? 26, 26... 26, 26... Ah, 41. Tu? Oppure tu pensi che io abbia 41 anni? 41, 45, hai 25 anni, 48... Ok, io non ho 48 anni però, non dimostro. Ok, la domanda è... Quanti anni voi, tutti voi, pensate che io abbia? Ok, quindi non 48, per favore, non ho 48 anni. Non credo, non dimostro 48 anni. Ok, tu 54, sembri avere 14 anni, sì. Ho 14 anni forse. No, non ho 14 anni, non ho 14 anni. 25, forse 26... 69 anni! Tu? No, tu sei giovane. Tu sei giovane. Io... No, non ho 69 anni. 20 anni, 26, 25, 27, 30. Ok. Penso che hai 28 anni. Tra 2 e 25. Tra 2 e 25. No, non ho tra 2 e 25 anni. Io ho 26 anni, 26 anni, sì, sono... Ho 26 anni, ne dimostro, non lo so, spero non 48 e nemmeno 69. Spero di dimostrare 26 anni, ok? Mi va bene, 26 anni. Esatto, 1900... Mi dai vibrazioni tipo 1997. 1997, 1995, esatto. Bene, bene, quindi 26 anni, sì. E tra poco, tra poco, tra poche settimane saranno 5 anni di podcast italiano, 5 anni di questo progetto. Ho iniziato questo progetto quindi quando avevo 21 anni e ora ne ho 26, sì. Era nel 2016. Forse avevo 22 anni. Quindi sì. Potrei essere tuo figlio, Pablo. Sì, potrei essere tuo figlio. Come usare ecco? Che lingua parli, Vigilius? Ecco è un po' come... È come una filler word che usiamo. Bene. Sei un bambino. Sì, sono... Beh, più o meno. Più o meno. Ora sono... Non sono più un bambino. Non credo. Dipende dalla cultura. Dipende dalla cultura. Bene, allora iniziamo. Basta... Basta chiacchiere. Iniziamo con la nostra lezione. Ok, quindi capitolo numero 4 del nostro Italiano secondo il metodo natura. Capitolo 4 che si chiama l'anno. L'anno. E attenzione, vediamo come si scrive. Si scrive? Vediamo se si può fare. Ah, ecco. No, scusate. L'anno. Non il anno, ma l'anno. E questo perché... Scusatemi, ok. Abbiamo visto che abbiamo... Quando abbiamo lo più anno, in realtà diventa l'anno. Quindi quando abbiamo una vocale. l'anno, quindi diciamo il ragazzo, la ragazza, ma diciamo l'anno, oppure l'amico, oppure l'amica. Ok? Quindi con una vocale succede questo. Bene, quindi l'anno. E l'anno in spagnolo, l'anno in spagnolo. In spagnolo c'è l'agua, in italiano l'acqua, l'acqua. Ok? Quindi c'è questa differenza. Bene. Gennaio... Ah, questo cos'è? Questo è un calendario. Questo è un calendario. Ok? Bene. Con i mesi, i giorni, le date, le date. Ok? I giorni dell'anno. Bene. Gennaio è un mese. Anche dicembre è un mese. Dodici... Dieci più due. Dodici mesi si chiamano un anno. O possiamo dire dodici mesi formano un anno. Ok? Ah, vediamo. Gennaio è un mese. Vediamo la pronuncia. Questa è la pronuncia, l'alfabeto fonetico internazionale. Ok? Quindi un mese. Perché abbiamo un più m. E quindi n più m non è un mese, ma un mese. Questa è un'assimilazione. Un mese. Ok? Quindi un mese oppure un... un minuto. Un minuto. Un mese. Questa è la pronuncia più naturale in italiano. Ok? Bene. Anche dicembre è un mese. Un mese. Dodici mesi si chiamano un anno. Ah, un'altra cosa. Un'altra cosa. Mesi. Ok? Qua nella pronuncia dice mesi, perché questa nell'alfabeto fonetico è mesi, mesi. Ma questa è la pronuncia tradizionale. Vi ricordate l'ultima volta, la scorsa volta, la scorsa diretta abbiamo parlato di pronuncia tradizionale, eccetera. La pronuncia tradizionale è mese. Scusate, mese. Una pronuncia più moderna è mese. E io vi ricordo, a me piace questo dizionario di pronuncia italiana online. Vedete? Qua la pronuncia più moderna è mese. Questo è z, z, z. E la pronuncia tradizionale è s, mese. Ok? Qua c'è la pronuncia tradizionale, mesi, mese. Io consiglio mese. Consiglio mese. Ok? Sentite la differenza. Z e s. Se parlate spagnolo, in spagnolo avete solo s, 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 s. Il suono s, oppure in Spagna s, s. Tipo soy español, s. Ok? In America Latina s. In italiano c'è il suono z, che sarebbe s con la vibrazione delle corde vocali. Quindi s. riuscite, siete capaci a fare questo suono. Ok? Z. Quindi qua io vi consiglio anche mesi. Dodici mesi. Pronuncia tradizionale mesi. Si chiamano un anno. Attenzione, anno, doppia n. No? Vi ricordate? Non ano. Ano, anno. Ano è quello del culo. Per essere chiari. Anno è quello di... che ha dodici mesi. Anno, anno. Anno. Ok? Anno. Provate a pronunciare insieme a me. Provate a pronunciare con me. Anno. 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 Dodici mesi si chiamano un anno. Gennaio è il primo mese dell'anno. 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 Ok? Qua abbiamo di... Ah, Oscar chiede. Mese non è... Mesi non è plurale. Ah, se avete domande scrivete. Se avete domande scrivete. Scrivete in inglese, in spagnolo, in francese, in russo. Nella vostra lingua. Scrivete, scrivete. Ok? Se avete dubbi, se avete domande. Mese è plurale. Sì. Allora, mese... Scusate, mesi è plurale. Mese è singolare. Mese. Ok? Quindi un mese, due mesi. Ok? Un mese, due mesi. Un mese, dodici mesi. Ok? Tutto chiaro? Alcune parole in italiano hanno la m. Ok? Dicembre è l'ultimo mese dell'anno. Ah no, dicevo questo. Dell'anno. Dell'anno. Qual è il significato di dodici? Dodici è... Twelve. Doce. O doce. Dodici. Dodici. Ma adesso vediamo i numeri. Tra poco. Vamos a ver los numeros. Le cifre, i numeri. Dodici. Ok? Dodici. Dell'anno. Allora, di più... Vediamo dell'anno. Allora, l'anno... Abbiamo visto l'anno, no? L'anno perché c'è una vocale, no? L'anno. Se vogliamo dire di più l'anno, dell'anno, dell'anno... In italiano abbiamo questa fusione, questa... questa combinazione. Ovvero dell'anno... Di più l'anno diventa dell'anno, ok? Dell'anno. Dell'anno. Ok? Dell'anno. Dell'anno. Bene, quindi il primo mese dell'anno. Non de l'anno o di l'anno, ma dell'anno. Bene? Primo mese dell'anno. Dicembre è l'ultimo mese dell'anno. Quindi il primo e l'ultimo. Il primo e l'ultimo. The first, the last. Il primo e l'ultimo. I dodici mesi dell'anno sono gennaio, febbraio, marzo. Proviamo a pronunciare insieme a me. Pronunciate ad alta voce. And both alta, out loud. Try to say this with me. Provate a pronunciare. Gennaio con doppia N. Attenzione, eh. Gennaio. Gennaio. Febbraio. Doppia B. Febbraio. E se parlate spagnolo B-B-B, non febbraio, 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 con una B, bella forte. Marzo, con TZ, marzo. Aprile. Maggio. Quindi una doppia. Maggio. Maggio. Giugno. Anche G-N è doppio. Giugno. Giugno. Non è giugno. Al nord si dice giugno, ma italiano standard giugno. Luglio. Luglio. Questo suono è un po' difficile. Luglio. Agosto. Settembre. Ottobre. Ottobre, settembre. Quindi doppie, anche qui. Settembre, ottobre, novembre e dicembre. Ok? Ok? Bene. Ottobre. Attenzione. Attenzione. Ecco. A-A-A-Sasel, a-A-Fatel, non so come si pronuncia. Dice Luglio Cesare. No. Giulio Cesare. Giulio Cesare. Giulio Cesare. Ma il mese è luglio. Non giulio o giuglio. Questo è un errore comunissimo. È un errore molto, molto comune. Gli stranieri, magari anche voi, dicono giulio, il mese di giulio. Giulio, giulio, giulio. Ma no, il mese di luglio. Scrivete nei commenti se fate o se facevate questo errore. Scrivete nei commenti se pensavate che fosse giulio. Quindi luglio, luglio. Tiene nel mismo significato che nel spagnolo. Sì, hanno lo stesso significato. Luglio è il mese, luglio. Giù, giulio, è la persona, il nome. Giulio, Giulio Cesare, ok? Bene. Quindi di nuovo, ancora una volta. Ancora una volta i mesi. Leggiamo e esercitatevi. Pronunciate insieme a me, ok? Ok, ho un problema, non riesco a tornare. Scusate. Scusate, allora. Ok. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Ok? Dicembre. Per fare il suono c'è, dovete avere la bocca così. Qui in posizione di bacio. Like this case position. Perché se no dite c'è c'è c'è. È possibile anche dicem, c'è c'è. Questa è una pronuncia del nord, dicembre, 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 per una pronuncia più standard, diciamo, dite di c'è c'è c'è, con questa posizione, ok? C'è 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 c'è, dicembre. Ok. Bene, bene, bene. Clayton sta imparando l'italiano. Bene! Spero che ti aiuti questa diretta. Per noi brasiliani non ci sono problemi per dire luglio, non avete problemi con la parola luglio, ok? Perché in portoghese come si dice? In portoghese come si dice? Non lo so. In spagnolo è julio. Come si dice entiendo? Entiendo si dice capisco, capisco. Capisco oppure capito, anche capito, 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 capisco, capito, è uguale. Capisco è io entiendo, capito è entendido, understood, ok? I understand, capisco, understood, capito, è usiamo entrambe le parole, ok? Ok, in portoghese è giulio, si dice giulio, giulio, credo. E in italiano luglio, luglio. Ok, bene. Quanti mesi ci sono in un anno? Quanti mesi ci sono in un anno? In un anno ci sono... Ditemelo voi! Scrivete quanti mesi ci sono in un anno? Non vediamo la risposta, vediamo se lo sapete. Quanti mesi ci sono in un anno? Quanti mesi ci sono in un anno? Ok. Sapete quanti mesi ci sono in un anno? Bene. Dodici. Ok, però, no, non vale scrivere uno due, non vale scrivere il numero, dovete scrivere dodici per fare pratica, no? Se no, non vale. Ci sono dodici... no, dodici anni... No, dodici mesi. Dodici mesi. José dice, non capisco come usare ci, ma allora non ti preoccupare, adesso ricorda ci, c'è, che sarebbe in spagnolo I o there is, c'è, ok, c'è, ok, impara c'è, apprende essa formula, c'è. Ci sono e I ma al plurale, there are, ci sono, ci sono dodici mesi. Oppure... sì, ci sono dodici mesi. Ecco, c'è, I, there is, come dice Daniela. Grazie, Daniela. Sto un poco drogato. Ok. Quanti mesi ci sono in un anno? In un anno ci sono dodici mesi. Bene, dodici è un numero. I numeri da uno a dodici sono. Vediamo anche da, questa preposizione, è una preposizione difficile. Di, perché di... in spagnolo da e di sono de, ok? Da sarebbe in inglese di solito from. Di solito, from. E di sarebbe of, quindi l'amico di mio fratello, l'amico di mio fratello. The friend of my brother. Oppure da, i numeri da uno a dieci, quindi from. Quindi abbiamo di e da, in spagnolo è de. Anche por, ma... va bene, non complichiamo. I numeri da uno a dodici sono... Pronunciate con me, come esercizio, ok? Uno, due, tre, quattro, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Ok, vediamo la pronuncia di nuovo. Per esempio, è interessante, tre. Al nord d'Italia, al nord, è comune dire tre. E, 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 con una e aperta, tre. La pronuncia standard è tre. Vedete, questo è il simbolo per la e. E, 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 e. Questo, invece, è il simbolo per la e, ok? Nell'alfabeto fonetico, quindi tre, e, e, sei. Sentite la differenza, tre e sei. Ok, tre, ma anche due, e. Mentre qua, sei, sette, con una e aperta, ok? Tre, ma sei, sette. Poi questa è una o aperta. Otto, quindi otto. Non otto, no, otto. Nove, dieci. Anche questa è una e aperta. Undici e dodici. Questa è una o. Dodici, non dodici, ma dodici. Questa è la pronuncia standard, che a me, a me piace. Se volete impararla, ascoltate e fate pratica dopo di me, oppure con me. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. E dodici. Ok. Bene. Tutto bene? Tutto chiaro? Fin qui avete domande? Come si scrive? In un anno o in un anno? Quindi con l'apostrofo o senza apostrofo? Come dice Daniela, non si mette l'apostrofo con il maschile. Quindi un anno. Un anno, un amico, un... Non mi vengono in mente altre parole. Un eroe. Un eroe, ok? Senza apostrofo. Ma diciamo un'amica, un'altra, un... Un'altra, un... Non sono creativo oggi. Un'amica, va bene, un'amica. Basta un'amica. Un albero, ecco. Un albero maschile. Un aereo maschile. Ok, bene. Ok, un orso. Scrivete voi degli esempi femminili. Così... Così aiutiamo il nostro amico. Chi ha fatto la domanda? Cesar, Cesar. Un apostrofo. Un apostrofo. In italiano apostrofo. Un errore. Ok, una domanda però... Una domanda inizia con la D, ok? Un'ape, esatto. Un'ape. Un'ape. Un'italiana, esatto. Un'italiana, come una... Una donna, una ragazza italiana. Un'italiana. Ecco, no. Non un'aiu... Aiuto, poi è maschile. Aiuto. Ma... Se fosse... Se fosse femminile... Ecco, un'arancia. Così è corretto. Un'arancia. Perché è femminile. Un'arancia. Un'ape. Ok. Un'anima. Ok, non è una azienda. Solitamente scriviamo così. Un'azienda. Un'alunna, eccetera. Un'anatra. Un'anatra. Bene. Ok? Ok. Quindi, qual è l'ultimo mese dell'anno? E vi ricordate qual è? Qual è? Senza apostrofo. Abbiamo... Abbiamo visto, credo, no? La scorsa volta. Qual è? Abbiamo parlato... Vabbè, non è importante, però... Non è importante, però qual è? Qual è? Si scrive così. Qual è l'ultimo mese dell'anno? L'ultimo mese dell'anno è dicembre. Il primo mese dell'anno è gennaio. Il secondo e il terzo mese sono febbraio e marzo. Quindi primo, secondo, terzo. Aprile è il quarto mese. Maggio è il quinto. E giugno è il sesto. Il settimo mese dell'anno è luglio. L'ottavo è agosto. E il nono è settembre. Ok? Quindi un po' di numeri ordinali per voi. Ottobre è il decimo mese. Novembre è l'undicesimo. E dicembre è il dodicesimo. E ultimo mese dell'anno. Ok? Quindi un po' di numeri. Ah, bene. The months are not written with a capital letter. Non sono scritti con una maiuscola. Con una maiuscola. Una maiuscola si dice. No. Non sono scritti con una maiuscola. No. Ottobre... Vedete? Dicembre, novembre, ottobre, settembre, agosto. Quindi in italiano... No, ottavo non è un mese. Luglio. Quindi vedete, vedete? Senza maiuscola. Senza maiuscola. Senza maiuscola. Si dice in oppure a, con i mesi. Normalmente diciamo a, anche se, anche se, in questo capitolo usa in dopo. Ma oggi preferiamo a, a febbraio, a marzo, ad aprile, a giugno, a luglio, ok? A settembre, ok? Bene. Allora, se avete domande scrivete, ok? Pietro. Pietro è un bambino di dieci anni. Quindi chi è Pietro? Pietro, se vi ricordate, Pietro è il bambino, il bambino della famiglia Rossi, Pietro. Ok, lui è Pietro. Pietro ha dieci anni. È un bambino di dieci anni. Pietro ha dieci anni, ok? Anche se... ok. Leggiamo questo prima. E Bruno quanti anni ha? Abbiamo già visto questa domanda. Quanti anni ha? Lui. Quanti anni hai tu? Quanti anni hai? Quanti anni hai? How old are you? Quanti anni hai? Quanti anni avete? Attenzione, anni. Anni. Quanti anni hai? Quanti anni hai? Ok? Vi ricordate? Quanti anni hai? Bene. Bruno ha quindici anni. O quindici anni. O ora, la pronuncia... Secondo me la pronuncia più naturale in italiano con... di questo, quindici anni, di questa combinazione, è proprio questa. Quindici anni. Non quindici anni, con cia, ma quindici anni, quindici anni. Secondo me, magari mi sbaglio, maybe I'm wrong, ma io credo che in Italia oggi sia comune questa pronuncia. Quindici anni... Dieci anni, undici anni, dodici anni, tredici anni, quattordici anni, quindici anni, sedici anni... Dici anni, diciassette anni, sì, diciassette anni, diciotto anni o diciotto anni, diciannove anni, vent'anni, vent'anni, e non venti anni, vent'anni. Ecco, con vent'anni... con vent'anni si scrive anche vent'anni. Con... per esempio, undici anni... no, perché se mettiamo l'apostrofo diventa undicanni e non funziona, non va bene. Quindi si scrive così, ma si legge... di solito, di solito si legge undici anni, ok? Ok? E voi avete scritto quanti anni avete? Selina ho quarantanove anni, ho cinquantacinque, ho ventitré, venticinque, ho vent'anni, vent'anni, corretto. Ho trent'anni, ho cinquant'anni, ho ventisette con la v, non ventisette, ma ventisette. Ho ventun'anni, ok. Vedo che scrivete le cifre, due, uno, tre, uno... no, scrivete vent'uno. Scrivete con le lettere, scrivete con le lettere. Write it in letter, because it's harder, but it's more useful. Es mas util si escrives con las... scrivis? Con las letras. Quindi con le lettere, ventuno, tredici, ventuno, ventitré, ventitré. A proposito, questa è una cosa che anche gli italiani non conoscono, non sanno. So even Italian don't know this, or some Italians at least, alcuni italiani. Ventitré, trentatré, quarantatré, quaranta, quaranta, quarantatré. Si scrive con l'accento. Si scrive con l'accento. Ventitré, trentatré, quarantatré. Ed è l'accento acuto, ok? È l'accento acuto, quindi questo. Quindi con questo accento, perché la pronuncia è e e non è, ok? E quindi si scrive ventitré, trentatré, quarantatré. Non tutti scrivono così, non tutti gli italiani scrivono, ma questo è... questa è la regola. La mia gatta ha dodici anni, ok? Quarantasette anni. Come si usa l'accento in italiano? L'accento in italiano... l'accento in italiano si scrive, si mette solo alla fine delle parole. Solo se è alla fine o se abbiamo a volte dei monosillabi. Monosillabi come è, oppure come ne, oppure parole come da, il verbo dare, eccetera. Quindi o sono monosillabi, oppure le parole con più di una sillaba, polisillabi, con l'accento alla fine. Quindi, esatto, città per esempio, perché, caffè, andrò, sarà, città, ok? Ma non si scrive se è dentro alla parola, ok? Se è dentro alla parola non si scrive. E questo è un po' un problema per chi impara l'italiano perché non si sa la pronuncia. Non si capisce la pronuncia... lo spagnolo è più facile in questo senso, ok? Bene. Quindi Bruno è più grande di Pietro. Bruno è il più grande dei due fratelli, ok? Quindi Bruno è più grande di Pietro. Bruno è più grande di Pietro. Vedete, Bruno chiaramente, evidentemente, è più grande di Pietro. Anche l'altezza. Bruno è più grande di Pietro. Bruno è il più grande dei due fratelli, ok? Tra di loro, tra i fratelli, lui è il più grande, ok? Il più grande dei due, quindi questo è assoluto, il più grande in assoluto, in assoluto. Più grande è un... una comparazione, è un paragone, è comparison, un paragone, una comparazione, ok? Quindi è più grande di Pietro, ma Bruno è il più grande di tutti i fratelli, che sono due, ok? Maria è una bambina di tredici anni o di tredici anni. Maria ha tredici anni, ok? E Pia quanti anni ha? Pia quanti anni ha? Pia ha solo cinque anni, cinque anni. Pia è più piccola di Maria. Pia è la più piccola delle due sorelle, ok? Vediamo, quindi... Pia è più piccola di Maria. Maria è più grande di Pia. Tra le due sorelle... Ok? Pia è la più piccola. Maria è la più grande. Ok? Chiaro? Tutto chiaro? Come saver quando vai l'accento grave o l'agudo? Dipende dalla pronuncia? È una domanda o è una risposta? Ah, sì, è una risposta. Sì, dipende dalla pronuncia. Dipende dalla pronuncia, di solito. Caffè, ma per... Caffè, ma perché... Attenzione, la pronuncia standard, ok? Perché... Questa è la pronuncia standard. Caffè, ma perché... Ok? La pronuncia che si usa in Italia centrale, generalmente, ok? Attenzione, al nord d'Italia si dice perché. A Milano si dice perché. A Torino si dice perché, ok? E quindi la regola non funziona in questo caso. Però l'ortografia, the spelling, è questo. Si basa, si fonda, si basa sulla pronuncia standard. Ok? È chiaro? Anche io e te, quindi... Io e te, e... In questo caso non si scrive, non si scrive, l'accento. Lui è mio fratello. In questo caso si scrive, si scrive per distinguere, e è. So in this case we use it to distinguish, para distinguir, e, e, e. So or and is, ok? E usiamo e... Usiamo e perché si pronuncia e, ok? Perché si pronuncia con una e aperta. Ok? Chiaro? Bene. Torniamo al testo. Ok, quindi, bene. Pi è la più piccola delle due sorelle. Siamo qui, ok? Il mese di aprile. Il mese di aprile vuol dire aprile, semplicemente. Ok? Come in spagnolo, el mes... De aprile, sì, se puoi desir, se puoi desir, desir. The month of April. Ok, il mese di aprile ha trenta giorni. Il mese di maggio ha trentun giorni. Ditemi, quanti giorni ha settembre? Facciamo un quiz. Quanti giorni ha settembre? Quanti giorni ha settembre? Quanti giorni ha settembre? Quanti giorni ha settembre? Scrivetemi. Vediamo se lo sapete. Quanti giorni ha settembre? Settembre, Luca dice, settembre ha trenta giorni. Esatto. Qualcuno scrive trentuno. Attenzione, non ha trentuno giorni, non credo. Settembre ha trenta giorni. Trenta giorni. Qualcuno scrive trentuno. No, 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 trenta giorni. Vi insegno una filastrocca che in Italia... Mia nonna... Mia nonna mi... mi diceva... Mia nonna mi diceva questa filastrocca. Trenta giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. A virgola o punto. Di ventotto ce n'è uno e tutti gli altri ne hanno trentuno. Quindi trenta giorni a novembre, aprile, giugno e settembre. Ok? Quindi settembre è nella lista. Settembre ha trenta giorni. Di ventotto ce n'è uno. Quale mese ha ventotto giorni? O ventinove. Scrivete. Quale mese ha ventotto giorni? E tutti gli altri ne hanno trentuno. Questa è la... Questa è la filastrocca. Molto utile. Io la ricordo ancora oggi. Quando non mi ricordo... Io penso... Trenta giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Di ventotto ce n'è uno. Tutti gli altri ne hanno trentuno. Scrivete la vostra... Nella vostra lingua esiste una... Una... Questa è una filastrocca. Esiste? Ok, ventotto giorni a febbraio. Esattamente. Esattamente. Febbraio, febbraio. Non il febbraio. Qualcuno scrive il... Non serve l'articolo. Non è necessario l'articolo. Febbraio. Ok. Febbraio. There's also a trick that you can do with your hands. Non lo conosco. Sì. Lo so, lo so, però non lo so. Io conosco la filastrocca. Con lo snudio. Ah, sì, con questi devi... Non mi ricordo quel trucco. Io conosco la filastrocca. Imparate la filastrocca. Trenta giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Di ventotto ce n'è uno e tutti gli altri ne hanno trentuno. Imparate anche l'italiano in questo modo. Molto utile. Ok. Quindi maggio è più lungo di aprile. Aprile è meno lungo di maggio. Ah, qua vedete trentun... Possiamo anche dire trentuno. Trentuno. Si dice. Trentun giorni, trentuno giorni. È uguale. Maggio è più lungo di aprile. Aprile è meno lungo di maggio. Settembre è meno lungo di ottobre. E novembre è meno lungo di dicembre. Ok. Più lungo, meno lungo in italiano. Mass, menos. More, less in inglese. Meno lungo. Febbraio ha solo ventotto. O ventinove giorni. Ok? Quindi... In quale anno ci saranno... Van a est... Van a aver ventinove giorni a febbraio? Qual è il prossimo anno? Qual è il prossimo anno che avrà in futuro? Qual è il prossimo anno che avrà ventinove giorni a febbraio? Lo sapete? Lo saprete? Lo sapete qual è il prossimo anno? 2024, esatto. Quindi ogni quattro anni. 2020, 2024, 2028, 2032, 36. Ok? Ogni quattro... Every four years. O cada quattro meses. Ogni quattro anni. Ok? Ogni quattro anni. Ogni quattro anni. Ogni quattro anni. Se vi interessa... Non è utile, ma si chiama... Hanno bise stile questa cosa. Non so... Ah, in inglese si dice gap year, credo. Leap year. Leap year. In spagnolo non lo so, però in italiano hanno bise stile, si dice. Ok. Alcuni non lo sanno, non lo sapete? Non lo sapete? Non lo sapete? Sì, ogni quattro anni. Ogni quattro anni. Hanno bise stile, chiede Hector, come si chiama. Bis sexto in portoghese. Bis sexto. Ah, ok. Bisiesto, bisiesto in spagnolo, ok. Bis e stile in italiano, se vi interessa. Ora sapete quand'è, quando sarà il prossimo anno, bis e stile. Molto importante. Fondamentale. È un'informazione fondamentale. Fondamentale. Dovete saperlo. Ok. Febbraio è solo 28 o 29 giorni nel 2024. Febbraio è più corto di gennaio, di marzo e degli altri mesi dell'anno. corto, lungo, corto, lungo, corto, lungo, ok. Ah, in italiano è lungo. In spagnolo si dice largo, largo. Noi diciamo lungo, long, lungo. Largo è ancio, quindi lungo e largo. Lungo è lunghezza, long. Largo è wide, ok. Quindi questa è la differenza in italiano. Lungo e largo. Attenzione, un falso amico tra italiano e spagnolo. Quindi lungo è corto. Oppure stretto è largo. Stretto è largo. Le strade, le strade italiane, le strade italiane nelle città, nei centri storici, le strade italiane sono molto strette. Sono molto strette. Per esempio questa è una strada stretta. Non so, si vede? Strade strette. Ok, dove sono finita? Non so che sito è. Non voglio comprare questa foto, però voglio solo farvi vedere. Una strada stretta. Una strada stretta. Una strada stretta. Se cerchiamo strade larghe americane, per esempio negli Stati Uniti, vediamo, ecco, queste strade larghe, autostrade molto larghe. Ecco. Questa, ecco, queste strade non esistono in Italia o sono... non sono comuni. Non sono comuni. Questa è in Polonia, credo. Non so. Ah no, amerikanski. Ah ok, quindi in... Ah ok, no, Stati Uniti, America. Non è in Italia. In Italia... In Italia ci piacciono queste. Sì, strette e larghe. Ok. Narrow, narrow, esattamente. Narrow o ancia. Scusa. Ancia è larga. Al contrario di ancia è... Come si dice? Non mi ricordo. Stretto in spagnolo. Non mi viene in mente. È stre... È stricto? No. È streccio. È streccio. Forse è streccio. È streccio, credo. È streccia. Esatto, streccia. Ok. Bene. In un mese ci sono quattro settimane. Più o meno quattro settimane, eh. Perché un mese, quattro settimane sono ventotto giorni. Quindi un po' di più. Un po' di più. Quattro settimane più due o tre giorni di solito. E in una settimana ci sono sette giorni. Come si chiamano i sette giorni della settimana? E ora vediamo i giorni della settimana. Ok? Tutto chiaro? I giorni della settimana si chiamano lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, scusate, sabato e domenica. Ok? Attenzione all'accento lunedì. Qualcuno dice... qualche straniero... Non so perché dice mercoledì o giovedì, venerdì, non so, qualcuno dice così, qualche studente che conosco. Quindi attenzione, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Il giorno della luna, il giorno di Marte, il giorno di Mercurio, il giorno di Giove, il giorno di Venere e poi sabato e domenica che non sono dei pianeti, hanno un'origine ebraica. Ok? Bene. Qual è il primo giorno della settimana? Il primo giorno è lunedì. E qual è l'ultimo? Il settimo e ultimo giorno della settimana è la domenica. Qua dice la domenica... sì, ok, possiamo dire domenica. Il settimo e ultimo giorno della settimana è domenica. Oggi, oggi, che giorno è? Che giorno è? Che giorno è oggi? Anche così. Che giorno è oggi? Che giorno è oggi? Scrivetemi che giorno è oggi? E io intanto vado a prendere altra acqua. Voi intanto... intanto scrivete che giorno è oggi. Ok, ora ho di nuovo acqua da bere. Ok? Bere. Bere acqua. Bevo acqua. Non bevere, bevere o... Bere. Bere. Bevo, bevi, beve. Beviamo, bevete, bevono. Ok? Oggi è venerdì. Oggi è venerdì. Esatto, oggi è venerdì. Venerdì 10 di settembre o venerdì 10 settembre? Esatto. Ore 17 e 27 in Brasile. In Italia 17... Scusa, 22 e 27. Oppure 10 e 27. 10... 10 e mezza di sera. Ma poi parliamo anche delle ore. Ok. Bene. Qual è... Qual è il vostro giorno preferito? Qual è il vostro giorno preferito? Il vostro? All of you. Ok? Di tutti voi. Qual è il tuo giorno preferito? Cessar, il tuo giorno preferito? Maria. Il tuo giorno... Oscar. Il tuo giorno preferito? Gibram. Il vostro, tutti insieme, ok? Il sabato. Sono d'accordo, il sabato. Il sabato perché... È l'inizio del fine settimana? Sabato. Bene. Domani è sabato. Evviva! Evviva! Possiamo festeggiare. Ah, qualcuno dice venerdì. Venerdì è l'inizio... L'inizio della... Perché è il vostro giorno preferito? Perché? Azazel dice la mattina di domenica. Specifico, la mattina di domenica. A me... Io direi il mio senza dubbio è sabato. Ok, sabato perché è l'inizio del fine settimana. No? How often do you do these lives? About once every two weeks, I would say. But let's see. If you guys like them... Se vi piacciono. Maybe more. Or I will keep doing these. Se vi piacciono, se vi piacciono queste dirette, mettete un mi piace. Like this video, this live stream. Leave a comment. Lasciate un commento per l'algoritmo. Quindi alla fine andate, lasciate un commento e consigliate ai vostri amici. Otherwise, I will have to stop these live streams. Dovrò concludere la serie al quarto capitolo. Non lo voglio fare. Voglio continuare, quindi... Il lunedì. Clarissa, il lunedì perché non lavoro? Ah. Meno... Beata te. Beata te, diciamo noi. Beata te. Come si può tradurre beata te? Good for you. Beato te. Beata te. Che fortuna hai. Che fortuna che hai. Beata te. Ok. Keep him coming. I will. If you want. Ok, bene. Quindi attenzione, il vostro giorno preferito, non favorito. Ok? Favorito non si dice. Il mio giorno preferito è... Sì, forse sabato. Forse sabato. perché la domenica è bella, ma la domenica... la domenica io penso... penso già a lunedì. Ok? E quindi nella mia testa c'è questo pensiero, questa... questo pensiero. Domani è lunedì. Domani devo lavorare. Domani devo creare contenuti. Poi il mio lavoro mi piace, quindi non è un problema. Però, sì, io non... non devo andare... non devo andare al lavoro. Non devo andare in un'azienda perché questo è il mio lavoro. Quindi lavoro a casa. Però, insomma, sì. È bello riposarsi. È bello dormire. È bello dormire. Ho una domanda. Non servono gli articoli per i giorni della settimana? Gli articoli... allora, dipende. Se parliamo di, per esempio, un giorno specifico, quindi domani è sabato. Sabato oppure dopo domani è domenica. Che domenica... domenica vado in montagna. Domenica vado al mare. Domenica vado al cinema. Ok? Domenica, questa domenica specifica, questa domenica nello specifico, domenica 12 settembre. La domenica vuol dire tutte le domeniche, in generale, in generale la domenica. Quindi la domenica è il mio giorno preferito. La domenica vado in... vado al parco a correre, no? La domenica vado al mare. Quindi la domenica vuol dire tutte le domeniche. Ogni domenica. Non questa domenica, non la prossima, ma sempre. Questa è la differenza, ok? Bene. Il primo giorno dell'anno è il primo gennaio. Che si chiama? Come si chiama? Lo sapete? Come si chiama? Se siete italiani non scrivete. Questo solo per gli stranieri. Il primo giorno dell'anno come si chiama? Il primo gennaio come si chiama? Scrivete. L'anno comincia il primo gennaio. Il secondo giorno dell'anno è il 2 gennaio. Quindi vedete il primo gennaio come il primo settembre, il mio compleanno. Il primo, si dice di solito. Il secondo giorno dell'anno è il 2 gennaio. E il terzo è il 3 gennaio. Ok? Tre pronuncia tre. Sembra semplice, sembra stupido, ma è per imparare settimo, sette, terzo, tre, secondo, due. Per imparare numeri cardinali e numeri ordinali. È utile, è utile. Sembra stupido. It seems stupid, but it's actually useful, kind of. Qual è il ventesimo giorno di marzo? È il 20 marzo. 20. A proposito, nella pronuncia standard, 20 si pronuncia con una e chiusa, quindi 20. Metto l'accento, non si scrive così, ma è per indicare la pronuncia, ok? Non si scrive normalmente, 20. Mentre 20 come winds, vientos. 20 si pronuncia nella pronuncia standard, ripeto, standard. 20. Quindi 20, i venti del deserto, ma 20 persone. 20, 20. Sentite la differenza, ok? È divertente. La pronuncia è divertente. Ora, questa è la pronuncia standard, ok? Pronuncia standard. Perché se andate, per esempio, a Milano, dicono 20 e 20. 20 persone, 20. Quindi non c'è differenza. Non c'è alcuna differenza. In alcuni accenti. Però in italiano standard, nella pronuncia standard, sì, c'è una differenza. Vedete, 20, questo è il simbolo fonetico per la e. 20. E qual è il trentesimo e ultimo giorno di novembre? È il 30 novembre. Non ho sentito la differenza, ok? Proviamo di nuovo. Guarda la bocca. Lingua in alto. 20. Adesso esagero. 20, 20, 20, 20, 20. Ora si sente? Ora è più chiara? Ora è più chiara? Bene. Quando finisce l'anno? Quando finisce l'anno? Finisce? Finisce e comincia. Il verbo finire è un po' curioso, ok? È un po' curioso. È un verbo particolare. Finire, perché non è io fino, tu fini, lui fine, ma io, io finisco, tu finisci, lui, lei finisce. E poi dite noi, vabbè, noi finisciamo. No, no, noi finiamo, quindi più regolare. Voi finite, loro finiscono, finiscono, ok? Questi sono i verbi, a volte li chiamano verbi incoativi, a volte li chiamano verbi isc. Ci sono un po' di verbi in italiano così, ok? Quindi finisce. Bene. Per questo finisce. Finisce e comincia. L'anno finisce con una sce lunga, nella pronuncia standard. Finisce il 31 dicembre. E quante settimane ci sono in un anno? Quante settimane ci sono in un anno? Ci sono 52 settimane. 52 settimane. 52. E quanti giorni ci sono 365 o 366 giorni? Ok, 365 o 366 giorni. Abbiamo visto che l'anno 2024, l'anno 2024, avrà, will have, tendrà, 366 giorni. Ok? Sarà un anno bisestile. L'anno finisce il 31 dicembre. Si scrive trentun o trentuno? Si scrive così, senza apostrofo. Senza apostrofo, ok? Bene. Si sente la differenza. Bene. Mi fa piacere. Bene, ok. Andiamo avanti. Due settimane sono quattordici giorni. Tre mesi sono novanta giorni. Sì. Circa. Più o meno, circa novanta giorni. A volte novantuna, a volte novantadue, a volte novantatree anche. Dipende, dipende. Però circa novanta giorni, ok? Circa, circa novanta giorni. Circa, no, circa vuol dire circa più o meno. Più o meno. Ok. Bene. Allora, proseguiamo. E vediamo, vediamo le stagioni. Marzo, aprile e maggio sono i mesi della primavera. Bene. Marzo, aprile e maggio sono i mesi della primavera. La primavera è una stagione. Ora. Stagione. In italiano abbiamo due... Questo è un errore comune. La stagione... La stagione... Che cos'è? Una stagione... Una stagione è l'inverno, la primavera, eccetera. Ok? Quindi questa... Queste... Cerchiamo foto... Una foto delle stagioni. Queste... Quattro stagioni. In Italia abbiamo quattro stagioni molto diverse. Stagione. La stazione è questa, per esempio. Stazione. Una stazione. Stazione e stagione. Ok? Quindi due parole diverse. Stazione e stagione. L'origine latina è la stessa. L'origine latina è la stessa, ma sono due parole diverse. Stagione. Ok? L'anno ha quattro stagioni e la primavera è la prima. Davvero è la prima? Non lo sapevo. Davvero la... C'è una stagione che è la prima stagione? Non lo sapevo. La prima stagione. Forse sono... Forse sono ignorante io. Non sapevo che... Non sapevo questa cosa. Quindi la prima stagione è la primavera? Ok. Non lo sapevo. La primavera è... Qualcuno dice l'inverno è il primo. Ok. Non sapevo. L'anno ha quattro stagioni. Quindi stagione, stagione, stagioni. Avete... Vi ricordate? Stagione... Come mese, mesi. Stagione, stagioni. Però il mese è maschile. Il mese. Un... Femminile. Una stagione. Una stagione. Due stagioni. Quattro stagioni. L'anno ha quattro stagioni. E la primavera è la prima. La seconda delle stagioni... Oh, la seconda stagione... Attenzione, stagione. Stagione è singolare. Una stagione. Ok? Non è plurale. La seconda delle stagioni è l'estate. Ok? Non lo sapevo. I mesi dell'estate sono giugno, luglio e agosto. L'estate comincia in giugno e finisce in settembre. Io preferisco a... Andiamo, scrivo... Ok, no, è troppo grande. È troppo grande. Io preferisco... Personalmente preferisco a giugno, a settembre, a ottobre. preferisco. Questo libro è vecchio, quindi... Ecco, a volte... a volte ci sono queste cose. Io direi a giugno e finisce a settembre. Settembre, ottobre e novembre sono i mesi della terza stagione dell'anno. Ok, l'autunno è la terza, a quanto pare, evidentemente. L'autunno comincia, io direi, a settembre e finisce a dicembre. La quarta e ultima stagione è l'inverno. I mesi dell'inverno sono dicembre, gennaio e febbraio. Ora, questo è in Italia. In Italia, nell'emisfero boreale, giusto? Boreale, l'emisfero nord, è così. Nel vostro paese, nel vostro continente, nel vostro emisfero, quando inizia l'estate? Quando inizia l'estate? Gennaio, gennaio. Di dove sei, Renzorzr? Renzorzr, mi piace il tuo nome. Di dove sei? Dove abiti? Dove vivi? Di che paese sei? In Perù, ok? In Perù. L'estate comincia a dicembre qua in Brasile. Dicembre, ok. 21 dicembre. È interessante perché in alcuni paesi, o almeno in Russia, in Russia, le stagioni iniziano il primo giorno del mese. Quindi, il primo settembre è l'inizio dell'autunno. In Italia è il 21 settembre. Dipende, a volte è il 20, a volte è il 21. Dipende dal equinozio, solstizio. No, forse 23, scusate. 23, 22. Mi dimentico sempre. Comunque 22, 23. Ok, quindi, più o meno, circa 21, 22, 23. Questi giorni. In Russia inizia il primo settembre, ufficialmente. Quindi, non so se solo in Russia o in altri paesi. Si può dire comincia nel mese di... Sì, si può dire comincia nel mese di settembre. Più semplicemente comincia a settembre. Ma si può anche dire così. Ok? Quindi, se sapete se ci sono altri paesi come la Russia, dove... dove il mese... la stagione inizia il primo del mese, scrivete. Non lo so, però io so che in Russia il primo settembre è il primo giorno dell'estate. Il primo dicembre è l'inizio dell'inverno, il primo giugno... il primo marzo è l'inizio della primavera, il primo giugno è l'inizio dell'estate. In Italia è sempre 21, 22, dipende. Ma in Russia non c'è la primavera. Sì, forse... No, c'è... è corta, è molto corta. Molto corta. Ok. Bene. Proseguiamo, continuiamo. L'autunno comincia i... Ah, abbiamo già detto questo. I mesi dell'inverno sono dicembre, gennaio, febbraio, credo. Ok. Scrivetemi qual è il vostro mese preferito. Mese preferito e la vostra stagione preferita. Qual è il vostro mese preferito e la vostra stagione preferita? Il mio mese preferito è forse marzo-aprile, forse, ma anche... ma anche mi piace settembre. Adesso mi piace, mi piace questo... questo mese, questo periodo. Mi piace la primavera perché... mi piace la primavera e l'autunno per la temperatura, che è molto bella, molto piacevole, very pleasant, molto piacevole. L'estate è troppo calda per me, troppo calda. Non mi piace il calore estremo, 35 gradi non mi piacciono. La primavera è bella perché l'inizio della vita, la rinascita della natura, dei fiori, delle piante, tutto bello, nuovo, questo è bello. L'autunno è bello per i colori, però l'autunno è anche un po' triste. L'autunno è un tempo di malinconia, malinconia e nostalgia per me perché le giornate sono sempre più corte, le giornate... le giornate sono sempre più corte, le giornate si accorciano, diciamo, e questo mi mette... questo mi mette un po' di tristezza. Questa è la mia risposta. Vediamo le vostre risposte. L'agosto è il mio mese preferito e la mia stagione preferita è l'estate perché fa caldo e posso andare a nuotare a mare, al mare. Io direi godermi il sole, godermi il sole, posso godermi il sole. Il mio mese preferito è aprile, quando è primavera. Sono d'accordo. Gennaio con due n... gennaio, due n, è il mio mese preferito perché è il mio compleanno. Ah, ok, bene. La mia stagione preferita è la primavera per il clima. Perfetto. Maggio perché non è troppo caldo. Io direi non fa troppo caldo o troppo freddo. Amo l'estate. Dice Maria. Non mi piace l'estate. Due opinioni diverse, opinioni contrastanti. Luglio, inverno, però l'inverno brasiliano. Credo che... 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 in italiano C-H-E, mi piacerebbe l'autunno in Italia. Sì, l'autunno in Italia è bello. È un bel momento, è un bel momento, un bel periodo per visitare l'Italia, per venire in Italia. Venite... venite in autunno. O in primavera. Se potete. Tutte le stagioni. L'autunno per me ha un'atmosfera molto accogliente, è vero. Il mese preferito è aprile perché fa fresco. In Brasile l'unica stagione possibile è l'inverno, perché il caldo nelle altre stagioni è terribile. Luglio è il mio mese preferito. Luglio è inverno in Brasile. Maria dice... Amo l'estate perché vado in spiaggia. Vado in spiaggia. Però mi piace, mi piace che in Italia abbiamo quattro stagioni molto diverse, molto distinte. Questo è bello. È bello perché c'è più varietà. C'è più varietà. E in alcuni paesi c'è meno varietà. C'è... le stagioni sono meno distinte, sono meno diverse. Forse in Brasile, no? Le stagioni sono meno... Sono meno diverse, credo. Poi dipende, dipende dalla regione. Il Brasile è enorme, gigante, però... Però sì, mi piace la varietà anche. Questo è bello. Poi l'inverno ha delle cose belle, no? Le montagne... Le montagne... Io sono vicino, io abito vicino alle montagne, quindi vi faccio vedere... Guardate... guardate questa foto. Guardate... guardate questa foto. Torino. D'inverno. Vediamo questi panorami. Le montagne. Le montagne con la neve. È bellissimo. Mi piace molto per... per questo l'inverno. Ecco. La... ok, questo... proseguiamo allora. Che siamo... dobbiamo andare più veloce. Sono sempre lento. L'anno dura 365-366 giorni. Dal primo gennaio al 31 dicembre. Bene. Da più il... Dal. A più il... Del... Al. Prima... Abbiamo visto. Abbiamo visto. Abbiamo visto. Del... Dello, no? Dov'è? 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 Mi ricordo. Del... 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 Ok? Quindi qua vediamo... Dal... Al... Ok? Dal... Bene, bene. Dal primo gennaio al 31 dicembre. Quanti mesi dura una stagione? Una stagione dura tre mesi. La primavera dura dal mese di marzo, oppure la primavera dura da marzo al mese di giugno, oppure a giugno. Da marzo a giugno. Dal mese di marzo al mese di giugno. L'estate dura dagli ultimi giorni di giugno agli ultimi giorni di settembre, quindi da più gli, a più gli, dagli, agli. Vi ricordo l'ultimo, quindi vi ricordo l'ultimo perché c'è una vocale, no? L'ultimo, oppure l'anno, l'amico, eccetera. Al plurale gli ultimi, gli anni, gli amici. Si scrive così. La pronuncia spesso non è gli ultimi, gli anni, gli amici, ma è di fatto gli ultimi, gli anni, gli amici. È una pronuncia più naturale. Gli amici, gli anni, gli ultimi, gli uomini. Forse gli uomini si può dire anche. Spesso però la i non si pronuncia, è una pronuncia veloce. Gli ultimi, gli anni, gli amici. Gli italiani. Anticamente si scriveva, anticamente si scriveva così, gli italiani. Oggi scriviamo gli italiani. Non so perché, non so perché, ma in passato si scriveva, si scriveva gli italiani con l'apostrofo. Oggi no, non è comune. Ma la pronuncia è comunque gli italiani, gli ultimi, no? Molto comune. I rossi, ok, torniamo, torniamo ai nostri rossi. I rossi non stanno a Roma tutto l'anno. In luglio, agosto e settembre, io preferisco a luglio. Se siete italiani, che cosa preferite? Io preferisco a luglio, ad agosto. Ad agosto e settembre non stanno a Roma, ma ad Ostia. Ad uguale a. La regola... Il consiglio è questo. Quando abbiamo e più e, per esempio... E più e, scriviamo ed. Quindi, per esempio, e, io, ed Enrico, no? Perché c'è e più e. Io, od, Orazio. Lo stesso con o più o. Od. Orazio, si scrive od. Perché la pronuncia è più facile. A volte, però, vediamo ad Ostia. È possibile ad Ostia. È possibile a Ostia. Non c'è nessun problema a dire a Ostia. In questo caso, secondo me, perché abbiamo ma a Ostia. Quindi ma a Ostia, troppe vocali. Ma a Ostia. Quindi ma ad Ostia. Però, per esempio... Non so, Pietro è a Ost... Ok, Pietro è a Ostia. Sì, troppe vocali anche qui. Pietro... Non lo so. Sono a Ostia. Sì, no? E si può dire comunque sono a Ostia. Sono a Ostia. Non è un problema. Sono a Ostia. Non è... Non è un problema. Questo è il consiglio. Non è una regola fissa. È più un consiglio di stile. È un consiglio di stile quando usare la... la D. Questa D. La D eufonica, si chiama. Ok, sono a Ostia. Ci sono alcune formule, alcune costruzioni fisse, come ad esempio, in cui vediamo la D. E quindi qua è obbligatorio. È obbligatoria perché è una formula fissa, ad esempio. Quindi non a esempio, ad esempio. Però normalmente questo è il consiglio, ok? I rossi stanno a Roma in autunno o... in autunno, in primavera e d'inverno. Ecco, vedete. In autunno, in primavera, d'inverno, d'estate. A me piace... non dispiace... a me non dispiace anche in inverno. I don't dislike it. Maybe I'm wrong. Forse mi sbaglio. Secondo me in inverno è possibile, ma forse è meno... meno... meno corretto. Non lo so. Io lo direi, ma forse è un errore mio. Forse mi sbaglio. Sandro, è quello che ho spiegato? Quello che ho spiegato? Sì, con la stessa vocale della preposizione che lo precede. Sì, ad asti. Lo so, in questo libro c'è scritto ad ostia, quindi non so perché hanno scritto così. Normalmente il consiglio... il consiglio è questo, no? La stessa... dove è? Scusate. La stessa vocale. E più E ed Enrico. O più O, odorazio. Anche A, non ho detto... anche la A. È vero, la A non l'ho detta, scusate, mi sono dimenticato. A più A, quindi ad. Ad Ancona. Ad Ancona. Questo è il consiglio di stile che si dà. Ok. I rossi stanno ad ostia dai primi giorni di luglio. Dai. From. From. Dai primi giorni di luglio agli ultimi di settembre o ai primi di ottobre. Ok. Anche i benelli stanno a ostia. Qua vedete a ostia, qua hanno scritto a ostia, qua hanno scritto ad ostia. Secondo me perché ma ad ostia c'erano tante a, tante vo... a-a-o, a-a-o. Tante vocali e per questo hanno scritto ad ostia. Due A consecutive. Ma... Qua invece stanno a ostia. Hanno scritto così. Auri, io dico in inverno, di solito. Sì. In inverno. Io anche io dico... Credo, a volte dico in inverno, a volte d'inverno. Non so. Devo pensare come dico, come parlo naturalmente. I rossi vanno da Roma a ostia il primo o il due luglio e stanno ad ostia tutta l'estate. Quindi passano l'estate, le loro vacanze estive, la loro... la loro casa... la loro casa al mare, probabilmente la loro casa estiva, la casa di vacanze, si trova a ostia. È a ostia, ok? Anche la famiglia Benelli va ad ostia. Qui c'è la D. Non so. Va a ostia. Anche qui forse... E quindi c'è la D. Anche la famiglia Benelli va a ostia il primo o il due luglio e sta ad ostia tutta l'estate. Anche qui c'è. E gli altri mesi dell'anno... Ok. E gli altri mesi dell'anno... Dove stanno i Benelli e i rossi? Gli altri mesi dell'anno. Stanno a Roma. Potremmo dire durante gli altri mesi dell'anno. Durante gli altri mesi dell'anno. Ma è sufficiente anche gli altri mesi dell'anno. Gli altri mesi dell'anno stanno a Roma. Sono a Roma. Ok? Gli altri mesi dell'anno... Stanno a Roma. La signorina Emilia Rossi va ad ostia... Ha una domanda. La signorina Emilia Rossi va ad ostia anche lei il primo luglio? Anche lei, vi ricordate? Anche lei di solito. Anch'io, anche tu. Quindi prima del pronome. Antes del pronombre. Before the pronoun. Anch'io, anche tu, anche lei. Non lei anche. Anche lei. La signorina Emilia... Emilia Rossi... Emilia Rossi è la sorella di Carlo. È la sorella di Carlo? Ok. Qua non c'è, però Emilia è la sorella di Carlo. Ed è la zia di Teresa, di Pietro, di Bruno, di Maria e di Pia. Ok? Emilia. È la... la zia. Emilia Rossi non va ad ostia. Lei non va ad ostia. E chi sono questi? Chi sono questi? Il padre del signor Rossi. Ah, sì, il padre, il nonno. Il nonno della famiglia. Il padre del signor Rossi, il signor Giuseppe Rossi, ha ottantadue anni. Ottantadue. Ottantadue anni sono molti. Povero Giuseppe Rossi. Sono molti. Il signor Giuseppe Rossi è vecchio. Povero Giuseppe Rossi. Giuseppe Rossi è vecchio. Sono molto cattivi. Sono molto mali. È vecchio. Povero Giuseppe Rossi. Il signor Giuseppe Rossi non è vecchio. È anziano. Anziano. Anziano si usa... Anziano è più gentile. Anziano è più gentile. Anziano. Anziano. È come vecchio, ma più gentile. Una persona anziana. Gli anziani. Vecchio è un pochino... Un pochino poco gentile. Poco cortese. Quindi una persona anziana si può definire vecchia. Io sono vecchio. Io posso dire sto diventando vecchio. Sono vecchio. Ho 26 anni. Però una persona vecchia non... Ha una persona vecchia è meglio non dire sei... sei vecchio. Sei una persona vecchia. No. È anziano. Anziano è più... I disegni dei vecchietti sono adorabili, dice Auri. I disegni sono la parte migliore di questo libro. Nel bene e nel male. Sono molto interessanti, molto particolari. Un uomo che ha molti anni è vecchio. Una donna che ha molti anni è vecchia. Ok, però è più gentile dire è anziano, è anziana, ok? Non dite vecchio, non è... non è bello. La signora Teresa Rossi non è vecchia o non è anziana. Teresa Rossi ha solo 35 anni. È una donna giovane. Beh, in Italia è giovane. In Italia è molto giovane. Ditemi, nei vostri paesi, che significa giovane? Perché in Italia, dovete sapere, in Italia una persona fino... hasta, until, fino, fino ai 40 anni, up until 40 years of age, fino a 40 anni, fino a 40 anni siamo giovani. Questa è una... è la mentalità, la cultura, la nostra cultura. 40, scusate, di solito scriviamo 40 anni. 40 anni come 20 anni. fino a 40 anni siamo giovani. Siamo giovanissimi. Siamo dei bambini. No, bambini no, però siamo giovani. Perché in Italia viviamo molto. In Italia viviamo... In Italia l'aspettativa di vita, life expectancy, cioè l'età media cui viviamo, o che... a cui arriviamo, è... è molto alta. Adesso non mi ricordo. Vediamo. L'Italia... Per gli uomini 34,7 anni... per le donne 34,7, per gli uomini 80,4. 84 e 80. Quindi viviamo molto. Settimo paese. Se vi interessa, guardate. Interessante. Quindi l'Italia è il settimo paese mondiale per aspettativa di vita dopo Giappone, Svizzera, Singapore, Australia, Spagna, Islanda, Italia. In media 82,6. E quindi siamo... A 40 anni siamo... Siamo giovani. Siamo giovanissimi. Ora... Sto... Un po' scherzo. So I'm joking a bit. Ma non troppo. Vediamo cosa dite. Ho 42 anni e mi sento giovanissimo. Grande. Fino a 40 anni siamo mantenuti. Sì, c'è anche questa questione. In Italia spesso viviamo con i genitori fino a 30 anni. O 28, 32, 33, 40 a volte. È abbastanza normale. È abbastanza normale. È un discorso complicato. Ci sono tanti motivi, di tante spiegazioni. Però questa è la realtà che in Italia viviamo con i genitori fino a 30 anni, 28, quindi molto, molto, molto tempo. In altri paesi... No, in altri paesi... No. Per vari motivi. In altri paesi non è così. in Germania, in... Nei paesi del nord Europa è normale a 20 anni vivere da soli. È normale non vivere più con i genitori. Quindi, sì. Cesar, in Brasile penso che fino a 19 anni siano giovani o siamo giovani noi. Ma dopo siamo tutti vecchi senza utilità. No, che brutto. Maria, secondo 40 anni è una persona anziana. In Canada 40 anni è vecchio. A 40 anni sei vecchio. How do you call a nursing home for the elderly? Casa per anziani, casa di cura, casa di riposo, casa... Casa... Casa per anziani, credo. Casa per anziani. Si dice? Casa per anziani, casa di riposo. Casa di riposo. Nursing home in Italian. vediamo. Casa... Casa di riposo, sì. Casa di cura. Ci sono un po' di nomi. Nipote si può usare tanto per dire sono nipote del mio nonno oppure sono nipote del mio zio? Sì, nipote purtroppo, unfortunately, purtroppo ha due significati. Purtroppo perché confonde nipote del nonno e nipote dello zio. Rodrigo, non diventiamo vecchi, diventiamo la nostra ultima versione. Mi piace la nostra versione finale. I wouldn't call my grandpa ancient. No, attenzione! Ancient è antico, ok? Quindi ancient è antico. e anziano è elderly. Elderly. Anziano, quindi è diver... antico e anziano, ok? Sono due parole diverse. Old è vecchio. Quindi sono due... però una persona non è antica. Roma è antica. Il Colosseo è antico. Non mi interessa, ok? Il Colosseo è antico. Ok, vuole comunicarmi questa cosa. Non mi interessa, ma ritorno, ok? Quindi è antico per queste cose. Una persona è anziana. Una persona è anziana. Ok. Il concetto anziano non è oggi lo stesso che trent'anni fa. Sì, chiaro. È un concetto che cambia. Le persone vivono più di più, vivono più a lungo. E quindi è un concetto che cambia. Ancient e anziano hanno la stessa etimologia per caso? Sì, sicuramente. Non conosco l'etimologia. Se qualcuno lo sa può scrivere. Però sì. Ok. Proseguiamo. Siamo quasi alla fine, credo. Anche Carlo Rossi è giovane. Ah, una donna che non ha molti anni è giovane. Giovane, vecchio. Giovane non cambia. È sempre uguale al singolare. Una donna giovane, un uomo giovane. Donna, uomo, giovane. Al plurale donne, donne, giovani, uomini, giovani. Ok, quindi donna giovane, uomo, giovane, donne, attenzione, donne, giovani, non giovane, perché giovane è singolare. Donne giovane, uomini, irregolare, giovani. Oppure ragazzo giovane, ragazza giovane, ragazzi giovani, ragazze giovani. Ok? Questa è la regola. Ok? Io sono un ragazzo ancora giovane. Ancora. Per il momento giovane, a 26 anni. Anche se... Meno giovane. Ogni giorno meno giovane. Sempre meno giovane. Come tutti, dopo tutto. Perché non si può diventare più giovani. Si può solo diventare vecchi. Questa è la vita. Ok? Che triste. Ok? O magari no. Magari non è triste. Carlo Rossi ha 42 anni. Ah, anche Carlo Rossi è giovane, ma meno giovane di sua moglie. Vedete? Carlo Rossi è giovane. Ha 42 anni. Vedete? Questa è la dimostrazione. Carlo Rossi ha 42 anni e è giovane, secondo gli autori del libro. Ok? Vedete? È giovanissimo. È un bambino. È nel fiore degli anni. Il padre di Teresa Rossi, il signor Gerardo Brunotti, questo tipo qua, Gerardo, con questa bella barba. Il padre di Teresa Rossi, il signor Gerardo Brunotti, è vecchio anche lui. Lui, poverino. E come si dice? Ageism, ageism contro queste povere persone anziane, poveretti. Il signor Gerardo Brunotti è vecchio anche lui, ma meno vecchio del signor Giuseppe Rossi. Giuseppe Rossi ha mille anni. No, Giuseppe Rossi ha 82 anni. Gerardo Brunotti ha solo 83, 73 anni, con l'accento, 60, 73. Non 70, non 70, 70. Pronunciate la doppia, 70, 80, 80. Esercitatevi con me, fate pratica. Vecchio. 70, 80, ok? Carlo e Teresa Rossi sono giovani, ma Teresa Rossi è più giovane di suo marito. Quindi la nostra coppia, marito e moglie, sono giovani. Lui ha 42 anni, solo 42 anni. Teresa Rossi è più giovane di suo marito. Più giovane di suo marito. Lui ha 42 anni, lei solo 35. I padri dei genitori sono vecchi. Attenzione, padri è solo uomini, solo maschi. Perché in spagnolo padres è genitori. Quindi genitori è parents e padri è fathers. Quindi attenzione, se parlate spagnolo, castellano, Attenzione, padri non è padres. Padri è padres masculinos. Ok, è chiaro? Solo i maschi. I padri dei genitori sono vecchi, ma Giuseppe Rossi è più vecchio di Gerardo Brunotti. Il primo ha 82 anni, l'altro solo 73. Giovanissimo, 73 anni. Giovanissimo. 73, ok? Oppure il secondo, possiamo dire. Ah, vedete? Vedete? Vecchio, vecchio, vecchi. Ok? Non è necessario scrivere vecchi con due i. Scriviamo vecchio, vecchi. Vecchi. Ok? Una i. Il figlio, i figli. Ok? Qua la i non si pronuncia, non si dice il figlio, no? Si dice il figlio. La i si scrive... Scriviamo la i solo per non dire figlo, ok? È una i diacritica, è una i funzionale, ma non si pronuncia figlio, ma figlio, ok? Per questo figli... poi figli al plurale. Ok? Tutto chiaro? Qual è il più vecchio dei due nonni? Il più vecchio dei due nonni è il signor Giuseppe Rossi. Vecchissimo Giuseppe Rossi. E qual è il più giovane dei due genitori? Quindi la più giovane dei due è la madre. Il meno vecchio... Vedete, è... Il meno vecchio. Il meno vecchio dei due nonni qual è? Il meno vecchio è il signor Gerardo Brunotti. Ok? Quindi abbiamo visto questo. E questa è la fine. Bene. Un anno... Queste sono le nostre parole. Un anno, l'autunno, l'estate, un giorno, l'inverno. Un mese, ok? Tutte queste. Potete... Potete scaricare questo libro, eh? Se cercate su Google Italiano secondo il metodo natura, potete trovarlo e seguirlo e usarlo se volete. Ok? Potete fare gli esercizi. Ora non facciamo gli esercizi. Se volete, potete fare voi gli esercizi da soli. Ancora una domanda. Voi vi sentite... Like, do you feel... Vi sentite giovani o vecchi? Questa è la mia domanda. Vi sentite giovani o vecchi? Oppure di mezza età? Di mezza età, anche. Intanto vediamo le domande. Forza Italia, dice il mio amico Arzion. Ciao Arzion, come va? Dove sei? Dove ti trovi? Raga, ragazzi... Sì, raga è slang per ragazzi. Qualcuno domandava... Cosa vuol dire? Raga, raga è slang. Nelio. Mi sento giovane nella mia testa perché ho 69 anni. Se imparate l'italiano, se imparate le lingue, se... Se fate attività mentali e fisiche, sarete gio... Rimarrete giovani. You will stay young. Rimarrete giovani. La cosa importante... La cosa importante è fare cose. Usare il cervello. Esercitare il cervello. Fare cose utili per la mente e per il corpo. Boh, ho 28 anni. Non sono, ho 28 anni. Beh, sei giovane, sei giovane. Hai 28 anni, sei giovane. Giovane. Ho giusto 17 anni. Ho solo, forse. Lucia, mi sento giovane. Benissimo. Andrea, ho 54 anni e mi sento troppo giovane. Troppo giovane? Troppo giovane? Mi sento vivo. Non dirò più, no? Sei vivo, bene. Sei vivo. Questa è la buona notizia. Dopo aver mangiato... Vecchio o vecchia, credo. Lucy, vecchia. Dopo aver mangiato. L'età è uno stato d'animo. Né giovane né vecchia. Mi sento me e basta da sempre. Bene. Benissimo. Io... Dipende dai momenti. Nei momenti di sconforto e di tristezza mi sento molto vecchio. Però... Sì. Non lo sono ancora oggettivamente. Ho ancora... Ho 26 anni, quindi ho 14 anni di tempo in Italia. No, perché io ho 28 anni. I have 28 years. Sì, in italiano diciamo I have 28 years. Esatto. In molte lingue. Anche in spagnolo, in portoghese. Quindi sì. Ok. Bene. Siamo alla fine della nostra diretta. Arziano dice al momento di vedere TikTok mi sento vecchio. Sì, è vero. Anche io quando guardo TikTok... Io non guardo TikTok perché ho già troppe... dipendenze, dipendenze. Mi bastano tutti gli altri 20.000 social network. Però anche io quando guardo TikTok o guardo cose che succedono su TikTok, video che vengono da TikTok, mi sento vecchio, molto vecchio. Anche io ho un TikTok, sì. Ho un TikTok, ma non lo uso. Ho fatto due video. Ma ho un Instagram. Iscrivetemi al mio Instagram. Podcast trattino basso. Italiano. Ok. Iscrivetevi al mio Instagram. Così. Perché... perché sì. Iscrivetevi. Vi aspetto sul mio Instagram. A volte faccio mini lezioni. questi reels su Instagram quando ho voglia. E se vi iscrivete, se vi iscrivete al mio Instagram, avrò la motivazione, sarò motivato a farlo. Ok? E quindi iscrivetevi a Instagram. E un'ultima cosa è... Se vi... se vi è piaciuta questa diretta, se vi piace questa... insomma questa... questa serie, trovate anche la... trovate anche la... la playlist. Playlist che... è questa qua. Quindi potete rivedere tutto. E ho messo dei titoli per aiutarvi a capire l'argomento. L'argomento, quindi più o meno family members. Ok? Quindi questa è la playlist. La trovate nel... nella lista del... sul mio canale, se andate sul mio canale. Oppure questo è il link. Questo è il link, se vi serve. E una cosa che vi chiedo, se vi piace... se vi piace questa serie, lasciate un... un mi piace. Lasciate un commento. Lasciate un commento perché questo... questo mi aiuta. Mi aiuta... aiuta con l'algoritmo ed è bello. Se avete dubbi, do that. Doubts, if you have any doubts. Se avete domande, scrivete nei commenti. Io dopo la diretta leggo i commenti. Se avete dubbi, domande, curiosità, leggo i commenti e rispondo ai commenti. Quindi lasciate un mi piace e condividete questa... questa serie. Share this series with other people if you think it's useful. e... compartire... compartire... esta serie con... otras personas. Vi piace il mio accento molto iberico. E basta. Vi ringrazio allora per la vostra partecipazione. E... alla prossima. Ci sentiamo presto. Buonanotte, buona giornata, buona serata. E... ciao ciao. Buona giornata, 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 bu